Gente del Sud, in Italia, nel mondo, in Europa, finalmente a Bari l'occasione che tutti quanti aspettavamo, la Confederazione dei Movimenti Meridionali, la Confederazione Duo Siciliana. Questa è la nostra speranza, questa è la certezza del nostro futuro, non potete mancare. Il 10 dicembre a Bari questo sarà il momento vero di aggregazione al di fuori di ogni appartenenza politica. Siete tutti invitati, sabato prossimo 10 dicembre a partire dalle 10.30 a Bari all'Euromotel, uscita 5 della tangenziale, per la presentazione ufficiale della Confederazione Duo Siciliana. Non mancate!